I consiglieri fraudolenti Ulisse e Diomede, ottava Bolge Lasciata la settima Bolge, con la disperata constatazione del gran numero di fiorentini che lì vi si trova, i due poeti entrano nell'ottava Bolge, dove vagano le fiamme dei consiglieri fraudolenti. Questi, elaborando inganni e tranelli, hanno usato la loro intelligenza per confondere invece che per chiarire. Allo stesso modo le fiamme che li avvolgono, invece di illuminarli, li nascondono. Incontrano Ulisse e Diomede, amici nella guerra troiana, racchiusi nella stessa fiamma. Così sono puniti insieme come insieme peccarono. Ulisse, mitico eroe, le sue imprese sono raccontate nei due poemi omerici Liliade e l'Odissea, e il re di Itaca e combatte contro i troiani nell'assedio della città. È lui che progetta il famoso cavallo di legno, all'interno del quale si nascondono i soldati greci, il che permette di conquistare la città dopo un lungo assedio. Con un trucco riescono a vincere i troiani, portando il cavallo in città e portano a termine la guerra dopo dieci anni di assedio. Terminata la quale, Ulisse vuole far ritorno ad Itaca con le sue navi e i suoi uomini. È costretto, però, a peregrinare per dieci anni e superare innumerevoli difficoltà. Le avventure di Ulisse, dopo la guerra di Troia, fino al suo ritorno a casa, sono descritte nell'Odissea. Sono descritte nell'Odissea. La storia del suo ultimo viaggio, al di là delle colonne d'Elcole, è probabilmente una invenzione dello stesso Dante. Questi, che dei poemi omerici conosceva solo alcuni episodi, attribuisce a Ulisse la sete di conoscenza insita nell'uomo, facendone così un simbolo, dice ai suoi compagni. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Queste parole rendono pronti i suoi compagni, che a stentoli avrebbe potuti trattenere e così girano la poppa verso Levante, pronti per il folle vola. Ulisse e Diomede sono, come già detto, due leggendari eroi dei poemi omerici. Le imprese per le quali sono posti nella bolgia dei consiglieri fraudolenti sono legate alla vicenda della guerra di Troia e all'inganno del cavallo. Dante non conosce direttamente i poemi omerici, riprende i fatti dall'Eneide di Virgilio e dall'Achilleide di Stazio. In questa bolgia i due poeti incontrano anche Guido da Montefeltro, che, dopo aver chiesto notizie della Romagna, racconta loro come Papa Bonifacio VIII lo abbia portato a dannarsi. Guido da Montefeltro è anch'essa un'anima racchiusa nel fuoco, è capo dei Ghibellini romagnoli per questa regione, perché Ghibellino è più volte scomunicato, essendo naturalmente avverso al Papa. Negli ultimi anni della sua vita, riconciliatosi con la Chiesa, diviene frate, frate minore francescano. I seminatori della discordia Maometto, nona bolgia Nella nona bolgia si presenta a Dante uno spettacolo inenarrabile di ferite e mutilazioni. Sono le anime di coloro che in vita si sono adoperate a seminare discordia e a separare ciò che doveva restare unito. Ora sono feriti e mutilati da un diavolo. Qui, tra gli altri personaggi, il poeta incontra Maometto. Questi è il fondatore della religione islamica. Ponendolo nella bolgia dei seminatori di discordia e di scisma, invece che nel sesto cerchio, dove sono puniti gli eretici, Dante sembra accogliere la leggenda medioevale secondo cui Maometto avesse un tempo predicato la fede cristiana e avesse poi fondato una nuova religione perché deluso di non aver ottenuto il papato. Lasciando la nona bolgia, Dante induge sperando di vedere il suo antenato Geri del Bello, cugino di suo padre, ma Virgilio lo spinge a proseguire. Geri era figlio di Bello di Alighiero, nipote di Bellincione, nonno di Dante. Pare sia stato ucciso da un certo brodaio Sacchetti che si vendicò per aver Geri messo zizzania nella sua famiglia. I Falsari Maestro Adamo Decima Bolgia Nella decima bolgia dell'ottavo cerchio sono puniti i falsari. Qui incontriamo Grifolino d'Arezzo Capolicchio da Siena, i quali sono affetti da lebbra come tutti i falsari di metalli. Grifolino viene arso come eretico. Amico di Alberto di Siena, è protetto dal vescovo di questa città e da questi, però, è mandato a rogo perché non gli ha insegnato l'arte di volare. Non si trova nell'inferno come eretico, ma per aver praticato l'alchimia è collocato qui. Capocchio di Siena, alchimista fiorentino, è arso vivo a Siena nel 1293. Faceva apparire oro e argento il vile metallo. I falsari, oltre ad essere lebrosi, sono anche in preda a rabbia furiosa e si mordono l'un l'altro, arsi della continua febbre, secondo il peccato commesso. Incontrano anche Maestro Adamo, il falsario di moneta, che aveva contraffatto il fiorino. Il Pozzo dei Giganti Nebroth, Fialte, Briareo, Anteo Lasciata l'ultima bolgia, giungono al Pozzo dei Giganti. Questi sono figli di Gea, la terra, e Urano, il cielo. Sono incatenati fino ai fianchi intorno a una parete del pozzo. Il gigante che Dante comincia a scorgere è Nebroth, primo re di Babilonia. Nella Genesi è descritto come un forte cacciatore ed è rappresentato da Dante con il corno da caccia. Sempre nella tradizione biblica è considerato il responsabile della costruzione della torre di Babele, da cui è derivata la confusione delle lingue. Alla distanza di un tiro di balestre trovano un altro gigante, più feroce e più grande del primo. È completamente legato da una catena che lo tiene stretto dal collo in giù. Dante non sa dire, immaginare chi sia stato il fabbro così abile ad incatenarlo, tanta è stata la sua bravura. Virgilio dice al poeta che questo superbo ha osato sperimentare la sua potenza contro il sommo Giove, perciò si è meritato tale castigo. Il suo nome è Fialte e ha dato prova di sé quando i giganti si sono scatenati contro gli dèi. Le braccia che egli ha agitato allora, ora non le potrà più muovere, incatenato così come si trova. Dante è ancora voglioso di vederne altre, tanto che chiede a Virgilio di vedere lo smisurato briareo dalle cento braccia e cinquanta bocche. Invece vedrà Anteo, con cui potrà parlare. Questi è slegato, sarà costui a deporre i due viandanti sul fondo dell'inferno, dove sono tormentati Lucifero e Giuda. Il cocito e le quattro zone Traditori dei familiari Prima zona I due poeti giungono nella parte scura, in fondo ai piedi del gigante Anteo, e mentre Dante guarda ancora l'alto muro, si sente dire di prestare attenzione nel camminare, perché potrebbe pestare le teste delle anime qui destinate. Si gira e vede sotto i suoi piedi un lago che aveva l'aspetto di vetro per il ghiaccio formatosi e non più di acqua. Siamo giunti nella prima zona del lago Cocito. Le anime sono conficcate nel ghiaccio fino al volto e tengono il viso abbassato per poter piangere senza che le lacrime si congelino. L'alanda ghiacciata si chiama Caina, cosiddetta da Caino che uccide il fratello Abele. In questa zona sono puniti i traditori dei familiari. Qui è presente il nipote di re Artù, Mordret, che ha tentato di assassinare il re per prendere il suo posto, ma è lui ad essere ucciso. Poi incontrano Vanni dei cancellieri, detto Focaccia, uccide a tradimento il cugino e tanti altri. In questo posto c'è anche Gianciotto, che uccide Francesca e Paolo. In questo posto c'è anche Gianciotto, che uccide a tradimento il cugino e tanti altri. in questo posto c'è anche Gianciotto, che uccide a tradimento il cugino e tanti altri.